E' bravo, dopo stavi scappati. Te l'ha firmato? Sì, sì. L'artista? Chi è questo artista? Chi è questo artista? Fabrizio Melina Nuvole. Questo libro bellissimo, lo consiglio a tutti. Fabrizio Melina Nuvole. Sì. Veramente lo porto anche in programma da me. Veramente. Grazie, sei zittilissimo. Dammi il tuo recapito. Vuoi il recapito, cos'è, la mail o l'indirizzo? O il telefono? Allora, 338-466-4668. Grande. 338-466-4668. Fabrizio Melina, faremo una bella intervista telefonica a questo artista giramondo. volevo impossessarvi senza pagare il libro. Perché noi artisti, anche io sono artisti, e come diceva lui prima, siamo sempre spiantati. È vero, è vero. Grazie, complimenti. È vero. Non lo sa qua, è vero.